L'imprenditoria femminile ha subito una forte battuta d'arresto a causa della pandemia, facendo salire sempre di più il divario tra donne senza figli che lavorano e donne con figli rimaste a casa. Una situazione ancora più accentuata in un territorio come quelle delle province di Chieti e Pescara, in cui il capoluogo teatino si riconferma terza provincia d'Italia con il maggior numero di imprese rosa. Al 31 dicembre 2021 le imprese femminili registrate presso la Camera di Commercio di Chieti e Pescara superano le 21.800 unità, pari al 56,7% delle imprese femminili abruzzesi e al 26,3% del totale imprese provinciali. Chieti è la prima realtà regionale per numero di imprese femminili seguita da Teramo, poi quella di Pescara e infine quella dell'Aquila. Rispetto al 2020 il tessuto imprenditoriale aumenta del più 0,3%, pur essendosi contratto del 0,6% rispetto al 2019. È un anno complicatissimo, sappiamo tutti, no? Inflazione, guerra, post pandemia, che poi tanto post non è nemmeno, quindi i problemi sono tanti. Cerchiamo, come ho detto poc'anzi, di sfruttare al meglio e al massimo questo benedetto PNRR e quindi come per la ZES cercheremo di dare degli sportelli collaborativi, esplicativi, informativi a tutte le imprese che vogliono iniziare un'attività o a quelle che ce l'hanno già. Tra PNRR e Fondo Impresa Donna le risorse destinate all'imprenditorialità femminile sono in aumento, per questo è stato approvato un programma che faccia leva su credito e formazione. Sì, ecco, è un passaggio culturale molto importante questo, cioè stravolgere un po' quelli che sono quei processi atavici che ancora ci portiamo dietro, di diversità, di supremazia, di cambio. No, è un concetto che deve passare di vita, non esiste una differenza tra i sessi, non esiste una differenza di capacità imprenditoriale, perché non tutti possono fare impresa, ma chi può fare impresa deve avere le competenze giuste e quindi noi dobbiamo aiutare queste imprese, questo è il nostro compito, a ben strutturarsi, a dirigersi verso attività competitive, corrette, al passo con i tempi e questo è anche il compito del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio.